Le patologie a carattere urologico sono in costante aumento soprattutto per l'invecchiamento della popolazione. Facciamo appunto su questi temi e soprattutto sulle attività della società italiana di urologia in occasione del congresso nazionale di questa importante società scientifica qui a Riccione dove appunto i lavori sono ancora in corso. Ne parliamo col segretario nazionale generale della SIO il professor Mirone. Allora professore dove sta andando la SIO? Quali sono gli obiettivi della vostra società scientifica? Io direi che l'obiettivo primario della società italiana di urologia che ha 105 anni e quindi qui ha celebrato il suo 86esimo congresso sono quelli di aprire sempre più alla società laica, alla società civile. Quindi direi che oggi il 75% del nostro congresso è dedicato ovviamente alla parte scientifica di aggiornamento in cui hanno un'importanza fondamentale la life surgery, tutti gli aspetti tecnologici, quindi gli hands-on per i giovani, tutta quella parte che è un po' il nocciolo duro della società, però abbiamo aperto per esempio a un'iniziativa che sarà molto interessante per i prossimi anni, già qui è stato un successo ben corposo che è Pianeta Uomo. Pianeta Uomo in breve cosa vuol dire? Vuol dire identificare in qualche modo le problematiche dell'uomo molto più complesse, articolate, direi spesso estremamente consolidate di quella che è la cultura maschile. Non solo la cultura maschile verso le malattie urinarie, ma anche verso la sessualità, nel rapporto di counseling, il rapporto tra padri e figli, l'educazione dei giovani maschi nelle scuole, quindi la mancanza purtroppo anche di quella che è un punto centrale che è l'educazione sessuale, ma anche quelle che sono direi le prese di coscienza di malattie importanti come non solo il cancro della prostata, ma anche malattie come per esempio quelle legate all'infertilità o la disfunzione rettile, ma anche le infezioni urinarie, anche tutta quella che ha problematica dell'incontinenza maschile, in breve un mondo che l'uomo ha una certa difficoltà a portar fuori e quindi io penso che questo sia un compito preciso della società e noi lo consoleremo sicuramente nei prossimi anni. Lo credo anch'io anche perché per l'uomo è venuto a mancare quel momento diciamo così di scrini che comunque c'è una sua grossa importanza che è la visita di leva, quindi oggi l'uomo si trova un po' indifeso nei confronti delle patologie della sfera uro-sessuale. Beh è evidente che quando il giovane maschio esce dalla pubertà, 14-15 anni, non abbiamo una terra di nessuno che si porta ormai fino al matrimonio, quindi 35-40 anni e quindi abbiamo la mancanza non solo di cultura ma anche di uno specialista di riferimento e quindi l'urologo vuole sempre più essere in qualche modo tra virgolette il ginecologo dell'uomo. Lei prima mi raccontava un'iniziativa molto bella che è questa scuola superiore di uro-oncologia, vorrei che ci raccontasse appunto qualche cosa in merito. Ma tra le altre iniziative ormai abbiamo anche qui portato avanti in quest'ultimo anno la scuola superiore di uro-oncologia che vuole essere né più né meno quello di far dialogare tra loro urologi e oncologi, trasmettere la cultura oncologica agli urologi e viceversa, imparare soprattutto a lavorare insieme, creare quindi delle units sul territorio nazionale dove i due specialisti possono conoscere i farmaci, conoscere le tecniche chirurgiche, approfondirsi nel counseling del malato oncologico, quindi tutta una serie di percorsi dove noi riteniamo che questi due specialisti non debbano in qualche modo avere compartimenti stanni, ma debbano imparare a lavorare, a collaborare nell'obiettivo finale unico che è quello di dare il miglior servizio al proprio paziente. Ecco infine professore, per i giovani urologi la SIO cosa sta pensando? Ma qui a Riccione abbiamo avuto due ore di live surgery, in collegamento da Riccione a Bologna con la clinica urologica del Sororsola e quindi abbiamo una situazione molto vissuta da parte dei nostri giovani di poter in qualche modo fare domande agli operatori in maniera live, in maniera diretta e poi abbiamo una manualità, varie postazioni di hands-on endoscopica, endurologica, laparoscopica ma anche robotica, dove i giovani in qualche modo tutorati dai più esperti, dai più anziani, possono in qualche modo imparare i segreti delle varie tecniche e quindi anche questo è stato estremamente apprezzato.